Grignoli Giovanni, in qualità di segretario dell'Avanotti ARDN Cicli Piazza Lunga, ci descrive la stagione 2010 della squadra. Buongiorno a tutti, la nostra stagione 2010 diciamo che comincia ancora nel migliore dei modi perché abbiamo ancora anche quest'anno 25 corridori suddivisi tra 13 giovanissimi, 3 esordienti e una decina di allievi. Speriamo sia una stagione ricca di risultati, l'anno scorso è mancata solamente la vittoria nella categoria allievi mentre in esordienti giovanissimi siamo riusciti a cogliere la vittoria e speriamo che quest'anno arrivi anche negli allievi. Nel corso della stagione come attività organizzatrice organizzeremo le solite due gare nel mese di agosto, la crono scalata per gli allievi valida come campionato provinciale crono scalata, con quest'anno una piccola novità che verrà annunciata in seguito una nuova collocazione e verso la fine di agosto, l'ultima domenica di agosto organizzeremo la classica per la categoria giovanissima.